Sono due giorni che sono qui a Trigoria, mi sono allenato da solo in palestra e adesso finalmente incontrerò il tecnico e il giocatore. Quando a giorni va, che strane cose fa, lui può spostare tutto col pensiero, è timido e sincero, di tutti tutto sa, poiché legge nel pensiero. È quasi magia, è quasi magia. Se a giorni gira e va, che strane cose fa, lui vola con la forza del pensiero, ci riesce per davvero, chissà poi come fa, ma che affascinante è giorni. Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo, Johnny, e come sempre riuscirai. Johnny, è quasi magia, Johnny, io provo e riprovo, Johnny, ma non ci riesco proprio mai. È quasi magia. È quasi magia. Quando a giorni va, che strane cose fa, lui può spostare tutto col pensiero, ci riesce per davvero, chissà poi come fa, ma che affascinante è giorni. Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo, Johnny, e come sempre riuscirai. Johnny, è quasi magia, Johnny, io provo e riprovo, Johnny, ma non ci riesco proprio mai. Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo, Johnny, e come sempre riuscirai. Johnny, è quasi magia. Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo, Johnny, riprova di nuovo, ma che approfond nerojele... É quasi magia, insomma. compañia, insomma. Giastriche, un'ottima, un'ottima... You cante magia, insomma. È quasi di nuovo...